La sinistra Perfano, come scriviamo nel nostro documento, vuole dare la risposta a quelle incoerenze che sono ben visibili nella città. In particolare importanza abbiamo dato, anche nel nostro simbolo, alla parola PER, perché noi vogliamo essere quelli che fanno la politica con passione, in modo disinteressato, quelli che non lo fanno per professione e quindi siamo persone libere, siamo persone libere ma con la nostra storia e la nostra storia la vogliamo portare al servizio della città. Un nostro cavallo di battaglia sicuramente sarà la sanità, non possiamo essere assolutamente d'accordo con la privatizzazione della sanità ma come tutti gli altri servizi pubblici. Ricorderei anche il servizio di riscossione delle imposte, delle entrate, il CONASET entrate e tutte le vicissitudini che poi non hanno avuto corso, che secondo noi sarebbero tutte da riportare in house. Noi vogliamo rifar tornare protagonisti il pubblico e siamo nettamente convinti che al privato è giusto che abbia la propria iniziativa ma i determinati servizi siano assolutamente in appannaggio e assicurati alla collettività come tra l'altro dice la Costituzione.